Bentornati in Grape Up Teaching, degusta responsabilmente, speciale di Natale. Il Natale si avvicina e tu non hai la minima idea di cosa regalare a parenti e amici? Noi di Grape Up Teaching ti diamo 5 buoni motivi per convincerti che una bottiglia di vino è la tua soluzione. Numero 1, la confezione. La bottiglia di vino è certamente un bello oggetto. In più, a Natale, molte aziende per rendere tutto un po' più magico le fanno in formato regalo. Ad esempio questo è un regalo di una mia amica vignaiola, formato regalo, che è sicuramente carino, no? Poi, una volta consumato all'interno, diventerà un porta... cose da utilizzare. Per tutti i gusti. Come sapete, ci sono tantissime tipologie di vino, quindi sicuramente c'è il vino giusto per i vostri cari o amici. Ad esempio, un bel bianco fresco e profumato per la vostra amica o amico. Un vino rosso invecchiato per il vostro vecchio. Così, mentre prende aria, magari ci fate due chiacchiere. Oppure un vino dolce da regalare agli amici e da bere mentre giocate a tombola. Insomma, sbizzarritevi. E per il nipotino minorene? Eh, lì ragazzi, c'è poco da fare. Cambiate il teaching. La taglia. Il vino non è un vestito, quindi non c'è il rischio di sbagliare taglia. Oh, bello, eh? Però non so se mi sta bene che dici. Oh, in caso sia lo scontrino, lo cambio. Il prezzo. Ci sono vini per tutte le tasche, quindi fate scegliere la vostra esperienza al vostro cuore e naturalmente al vostro portafogli. Oh, evitate quello in cartone da un euro e mezzo, eh? Pitto la tasca, ma... La convivialità. Già, forse il motivo più importante alla convivialità, perché il vino è buono e bevuto insieme. Quindi regalate e bevete insieme. Sempre! Grazie a tutti. Grazie a tutti